La festa della donna Da cui poi le famose mimose eccetera eccetera È interessante sentire anche qualcuno che magari non dico Non lo voglio chiamare Bastian Contrario Ma come detto si pone qualche domanda in più sul perché e sul per come Io allora do il benvenuto ed è un piacere averla qui Adella Marcello, direttrice creativa che è in collegamento con noi Ella, buongiorno a te, grazie per la disponibilità E vediamo se ti vedo Ella, eccoti Eccoci, ciao Giacomo, come stai? Io sto bene, spero che anche tu stia bene So che sarai a Milano peraltro in giornata Quindi poi magari vediamo se riusciamo a incrociarci Se no sarà per la prossima volta Però volevo subito girarti la domanda che ci siamo posti su questo titolo E cioè giornata internazionale della donna Giusto celebrarla? Voglio proprio sentire che cosa mi rispondi Giusto è sacrosanto celebrare la giornata internazionale della donna Uscendo un po' dalle logiche della festa della donna Cioè questo grande, come dire Grande disclaimer che voglio fare Poi io parlo da comunicatrice Da persona che si interfaccia tutti i giorni con i marchi, con le aziende Che spessissimo confezionano dei contenuti opinabili rispetto a questa ricorrenza E' giusto festeggiare la giornata internazionale della donna Sapendo che questa giornata sta qui a ricordarci che ancora oggi Il 50% della popolazione mondiale non ha gli stessi diritti dell'altra metà E quindi è una giornata di riflessione in cui capire a che punto siamo E come fare, con quali strumenti, con quali mezzi Andare a colmare questo divario Non è una festa, diciamocelo Quindi un mondo ideale sarebbe quello che non celebra la giornata internazionale della donna? Che la celebra ma che non la ricorda come una festa Perché purtroppo non abbiamo molto da festeggiare Chiaro, chiarissimo Ella era giusto per mettere anche i puntini su lei Su questa riflessione che ci hai fornito Hai detto che tu poi lavori giustamente nella comunicazione Hai a che fare con i brand Ti posso chiedere, non dico un decalogo Perché poi magari rischiamo di essere troppo lunghi Però quegli aspetti che dal tuo punto di vista Andrebbero proprio evitati Quelle iniziative, quelle aggiunte Che diciamo forse Insomma forse possiamo anche cominciare a farne a meno Nell'ambito proprio appunto della comunicazione Declinata proprio a quella festa della donna Che stiamo in qualche modo mettendo in discussione Dunque c'è un punto secondo me importantissimo e fondamentale da cui partire Se la mia azienda, se il mio marchio non sta lavorando con delle politiche attive In favore della parità di genere Ecco, non facciamo uscire alcun contenuto Perché è chiaramente un cavalcare, un'onda mediatica Che però non ci appartiene Se nella nostra azienda Tutte le prime linee sono ancora composte per lo più da uomini Ecco, magari evitiamo Se sappiamo perfettamente che stiamo strumentalizzando una ricorrenza importante Che parla di diritti Per veicolare offerte commerciali più o meno opinabili di nuovo Ecco, no E poi tutta la parte di linguaggio e di retorica Di certo Le cose che si tingono di rosa Il fatto che le donne siano quelle che portano la vita O quelle che illuminano il mondo intorno a noi I prodotti di bellezza I prodotti di bellezza e i marchi che fanno prodotti di bellezza Non sono da demonizzare Però ecco, se proprio durante la giornata internazionale della donna Ci viene detto che dobbiamo essere più belle C'è qualcosa che stride, no? Non portiamo poesia nel mondo Che mondo sarebbe senza le donne? Ecco, tutte queste metafore Queste espressioni molto abusate Non aiutano la causa Anzi, la strumentalizzano E la relegano ancora di più ai margini se possibile Consolidano un immaginario Per cui siamo degli individui delicati Degli individui angelicati Ecco, no, c'è bisogno di empowerment per le donne Non c'è bisogno delle mimose o delle offerte commerciali Forse l'hai in qualche modo accarezzato anche come tema Però spesso si tende Correggimi se sbaglio ovviamente Ma si tende anche a considerare le donne Soprattutto l'8 marzo Come delle supereroi Come delle eroine che riescono a Poi probabilmente lo sono anche Ripeto, correggimi o Radrizza l'argomentazione come preferisci Però insomma, ogni volta che viene detto Beh, insomma, mamme, lavoro Riusciamo, le donne riescono a fare A fare più cose contemporaneamente Rispetto a magari L'impossibilità del maschio Spesso emerge questo aspetto Donno uguale supereroe L'8 marzo Sì, all'8 marzo ci raccontano spessissimo Come le wonder women Come le supereroine E si inserisce in questa retorica Molto pericolosa Anche quella del multitasking Ma entrambe queste retoriche Quindi la supereroina E il multitasking Sono state confezionate appositamente Per farci lavorare di più Perché se diamo una connotazione Di superiorità alle donne In ambito lavorativo Contribuiamo a cementificare Il divario Perché tanto le donne mica si lamentano Perché tanto è la loro natura Quella di incastrare le cose Di fare centomila cose Di lavorare di più Essendo anche sempre pagate meno Capisci che stride Questa concezione Nessuna donna è una supereroina Ci hanno raccontato Che possiamo esserlo Soprattutto in casa Per relegarci alla casa stessa Per non farci uscire da lì E la gabbia dorata Che purtroppo ci portiamo ancora appresso Metaforicamente Oppure fisicamente In tantissimi casi Noi nel corso della nostra Iniziativa Insomma nella nostra maratona Ovviamente parleremo anche Del tema della violenza Insomma sulle donne E so che in questi giorni Insomma hai avuto modo Di parlare con una collega Insomma una giornalista Del quotidiano domani Proprio su questo tema E diciamo sull'approccio Di come a volte La violenza sulle donne Rischia di avere Parlare di questo argomento Rischia di avere Diciamo così L'effetto contrario E addirittura Di scatenare Scatenarne dell'altra Dell'ulteriore violenza Su questo Su questo aspetto Ci puoi spiegare bene Insomma di che cosa si tratta E quali sono Insomma i I contenuti I concetti Più importanti Che sono emersi Insomma in questa tua Posso chiamarla Intervista Sì L'intervista tra l'altro Una bellissima intervista A firma di Rita Rapisardi Di domani Abbiamo Discusso Circa le campagne Di sensibilizzazione Sulla violenza Sulle donne Che sono per la maggior parte Sempre molto sbagliate Perché Perché mostrano Ad esempio Il viso come fatto Di una persona Sì Una donna Col capochino La mano Che entra Nell'obiettivo A coprirsi Quindi Una rappresentazione Molto svilente Della donna Ma Non soltanto Quello Il punto è La vittimizzazione Della donna Abbiamo Discusso Intorno a una campagna Che purtroppo Rapisardi ha visto In una questura Di Torino Che diceva qualcosa Del tipo Se stai in silenzio Stimoli il carnefice Quindi Che cosa Che cosa racconta Con il volto Tumefatto Di questa donna Molto Molto Sofferente Che cosa racconta Questa campagna Alle donne Racconta che Beh Un po' ce la siamo cercata Perché Se stiamo zitte È un po' La colpa è pure nostra Questa cosa ha un nome Si chiama Victim Blaming Oppure In italiano Vittimizzazione secondaria Quindi Dare la responsabilità E la colpa Della violenza Alla vittima E questo è sbagliatissimo Perché noi dobbiamo Iniziare Nelle campagne Di sensibilizzazione Circa la violenza Contro le donne A parlare Dell'agito L'agito È la violenza Ma la gente È l'uomo Se tu noti Nelle campagne Non c'è mai l'uomo Eppure La violenza La violenza Di genere È la violenza Maschile Non esiste un corrispettivo Della violenza femminile Sugli uomini Questo non vuol dire Che le donne Non usino violenza Sugli uomini Ma non è una violenza Di genere Ovvero La violenza Non viene perpetrata Perché Appartengono a un determinato genere Quindi c'è bisogno Di stimolare Le persone Che fanno parte Di quel genere Perché lo sappiamo Che non tutti Gli uomini Sono così Però Se gli uomini Che non sono così Non si rendono conto Di far parte Di un problema Che affligge Il loro genere La violenza Sulle donne Sarà molto difficile Da estirpare Il silenzio Che viene generato Da queste campagne Ha a che fare Molto spesso Con il fatto Che non andiamo Che edulcoriamo I messaggi E li indirizziamo Alle persone sbagliate Il target Non sono le donne Il target Sono gli uomini Dobbiamo iniziare A mettere gli uomini Al centro Ed eccolo Lo mostriamo anche Diciamo il titolo Dell'intervista Insomma Di cui abbiamo parlato Con Ella Marcello I messaggi sbagliati Che trasformano le donne In complici Dei loro carnefici Appunto Affirma Rita Rapisardi Collega Insomma Che salutiamo E Ella direi che Nel chiederti Anche prima di salutarci Se Perché tu comunque Recentemente Hai anche pubblicato Pubblicato un libro Ti chiedo Diciamo In che modo Sviluppi Questa narrativa Insomma Se è presente Questa Questa narrativa E poi Vorrei anche mostrare Insomma Prima di salutarci Appunto Del Diciamo Del messaggio Che hai voluto lanciare Qualche giorno fa In realtà Ma ovviamente La direzione Era L'8 marzo E cioè Del perché Il tuo brand Eccolo qua Non dovrebbe fare un post Sulla giornata Internazionale Della donna Quindi insomma Ci ricolleghiamo Da questo punto di vista Al primo Alla prima Riflessione Che abbiamo fatto Insieme Insomma Occhio A che cosa Si dice E a come Viene interpretata Se devi scrivere Un saluto A tutte le donne Senza le quali Il mondo Non sarebbe così bello Allora forse Ci sono delle motivazioni Per cui tu puoi anche Non scrivere Qualcosa del genere Ma Con ordine Il libro È là Il libro È edito Da Si chiama Scrittura Ribelle E il sottotitolo È antimanuale Di scrittura Creativa È un libro È stato un libro Sofferto Devo dire E ha come Tematica principale Il capire Quali sono Le narrazioni Quali sono Le regole Che possiamo Infrangere E soprattutto Qual è La responsabilità Di chi scrive A tutti i livelli Che tu sia Una copywriter Una giornalista Semplicemente Un'autrice Un'autore Naturalmente Quindi Una nuova Prospettiva Delle nuove Sensibilità Che possano sviluppare La creatività Ma Che si rendano conto Anche dei contesti E degli scenari E soprattutto Dei cambiamenti Politici Sociali Professionali Che stanno avvenendo Quindi Io credo Che sia un libro Che possiamo leggere Che ci può dare Degli spunti Che tra l'altro Presenterò Questo giovedì A Torino Ho già presentato a Milano Insomma Sono un po' in giro Con quelle presentazioni Del libro E' un libro Che sentivo necessario Soprattutto nel mio percorso Professionale Perché credo che L'unico modo Per scardinare Certe narrazioni Sia riscriverle Ella Grazie Per essere stata qui con noi Ringraziamo Ella Marcello Direttrice creativa L'agenda di oggi E' tutta incentrata Sul tema Della giornata internazionale O Farai anche altro? E' oggi Principalmente Principalmente Quello E' un giorno molto caldo E allora Buon lavoro E grazie ancora Grazie Giacomo Buona giornata Buona giornata